Che la guerra faccia male alla salute è un evento storico notissimo, quindi nulla di nuovo. Io mi sono focalizzato su un elemento in più, che è quello dello scoppio di focolai epidemici e di avere proprie epidemie, direttamente conseguenza di azioni belliche, attuali, cioè in corso mentre stiamo parlando. Purtroppo abbiamo numerosi esempi, l'Africa è la regina di questi eventi, con la polimerite che è riemersa in 48 paesi africani, con il colera che impazza sia in Africa ma anche in America Latina e nel sud-est asiatico e abbiamo addirittura l'epatite E che è sorta recentemente, anzi sta impazzando in questi giorni in Sudan. Questo significa una nuova necessità, cioè necessità di aggiungere all'intervento postbellico non soltanto elementi vitali di nutrizione, di acqua potabile, di cibo, eccetera, ma anche una sorveglianza antiepidemica che possa prevenire questi scoppi epidemici e che addirittura sono un rischio non soltanto per i paesi belligeranti ma anche per i paesi vicini dove si esporta questo tipo di epidemie.